Dico 33, dico 33, 33, dico 33, avanti, avanti il prossimo, avanti il prossimo, accomodatevi. Permesso? Accomodatevi. Buongiorno dottore. Salve, come state? Sto bene, e voi? Eh, io sto buono. Allora ditemi. A me mi hanno detto una cosa, ma qua non lo so se è vero o non è vero. Mi hanno detto che se io bevo molta acqua potrei diventare pure bello, è vero. Sì, è vero, ma adesso da qui l'ultimo vero.